ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di mentalità vincente dove affronteremo un viaggio straordinario alla scoperta dell'armonia interiore e dei misteri del taoismo oggi ci immergeremo nel profondo mondo dell'olismo e della spiritualità esplorando in particolare il potente strumento della meditazione taoista allacciate le cinture partiamo nel mondo affannato in cui viviamo spesso ci ritroviamo distanti dalla vera essenza dell'universo il taoismo antica filosofia e pratica spirituale ci offre una visione del mondo straordinaria l'olismo universale questo concetto profondo ci insegna che ogni aspetto della vita è connesso come i fili di una tela intricata come un fiume che scorre senza sforzo lungo il suo corso o una foresta rigogliosa in cui ogni pianta contribuisce all'equilibrio dell'ecosistema anche noi possiamo imparare a vivere in armonia con il flusso naturale dell'esistenza questo è il cuore pulsante del taoismo riconoscere la bellezza dell'interconnessione in ogni aspetto della vita l'olismo universale del taoismo ci invita a riconnetterci con la natura e a vedere noi stessi come parte integrante di essa quando meditiamo secondo il tao diventiamo uno con il mondo circostante accettando il flusso incessante della vita come un dono prezioso nel turbine della vita moderna la ricerca dell'equilibrio può sembrare una missione impossibile tuttavia il taoismo ci svela un segreto fondamentale l'equilibrio non è una posizione statica ma un flusso in costante evoluzione è come danzare al ritmo inarrestabile dell'essenza vitale stessa immaginate di camminare su una corda tesa costantemente in movimento per mantenere l'equilibrio dobbiamo essere flessibili adattarci alle sfide e ascoltare attentamente il nostro intuito questa è l'essenza stessa del taoismo accettare il flusso della vita e abbracciare il cambiamento senza resistenza attraverso la meditazione taoista apprenderete a lasciare andare le tensioni e a liberarvi delle preoccupazioni in questo stato di profonda contemplazione troverete l'equilibrio interiore che tanto desiderate la ricerca dell'equilibrio diventa un viaggio personale e unico una danza con l'essenza vitale stessa ricordate l'equilibrio non è uno scopo ma un percorso è la pratica costante consapevole di ascoltare il vostro cuore adattarsi alle circostanze e seguire il ritmo dell'essenza vitale è un viaggio senza fine ma anche la più gratificante delle avventure ora che abbiamo esplorato l'olismo e la ricerca dell'equilibrio è giunto il momento di entrare nel cuore della pratica taoista la meditazione questo è il portale attraverso il quale scopriremo l'essenza stessa del tao e la profonda pace interiore che può offrire sedetevi comodamente in un luogo tranquillo chiudete gli occhi e iniziate a concentrarvi sul vostro respiro inspirate profondamente sentendo l'aria riempire i vostri polmoni e poi ispirate lentamente rilasciando tutte le tensioni la meditazione taoista inizia con il respiro un rituale che ci connette profondamente con l'essenza vitale nella meditazione imparerete a lasciare andare le preoccupazioni e le ansie a sciogliere i pensieri che vi trascinano via dalla quiete interiore è un processo di accettazione e riconnessione con voi stessi e con il mondo che vi circonda mentre meditate potreste iniziare a percepire un flusso sottile di energia che vi attraversa un'energia che è parte dell'essenza vitale stessa questo è il tao in azione il mistero che abbraccia ogni aspetto dell'universo alla fine della vostra meditazione quando riaprirete gli occhi vi sentirete rinnovati più in sintonia con voi stessi e con l'universo è un'esperienza personale e unica e ogni sessione può portarvi a una comprensione più profonda del tao e della vostra vera natura dopo aver percorso il cammino della meditazione taoista si apre davanti a voi il dono più prezioso la pace interiore questa pace non è un semplice stato temporaneo ma una trasformazione profonda che si insinua delicatamente in ogni fibra del vostro essere nella quiete profonda della meditazione avete concesso al vostro corpo e alla vostra mente il permesso di liberarsi dalle tensioni accumulate in questo spazio di calma interiore i vostri pensieri si stemperano come onde che si placano su una tranquilla spiaggia la pace interiore che troverete nella meditazione taoista è più di una fugace tregua dalla frenesia quotidiana è una riserva infinita di serenità che sgorga dal vostro essere una fonte inesauribile di forza interiore che vi abbraccia in ogni istante questa pace diventa un faro che vi guida attraverso le tempeste della vita quando vi ritroverete immersi nel caos sarete in grado di richiamare questa calma interiore trovando chiarezza e saggezza nelle situazioni più complesse con il passare del tempo scoprirete che la pace interiore permea ogni aspetto della vostra esistenza migliorerà la vostra salute mentale e fisica rafforzerà i vostri legami con gli altri e vi aprirà alla bellezza e alla meraviglia del mondo che vi circonda questa pace intrisa di profonda saggezza è il tesoro più prezioso che il taoismo e la meditazione hanno da offrire è un rifugio nel quale potrete sempre ritornare un'oasi di tranquillità che risiede silenziosamente nel vostro cuore e così giungiamo al termine di questo affascinante viaggio nell'universo del taoismo e della meditazione taoista speriamo che questo percorso vi abbia ispirato e vi abbia portato a riflettere profondamente su come la pratica del taoismo possa arricchire la vostra vita in modo straordinario il taoismo la sua filosofia dell'olismo ci ha insegnato l'importanza di percepire la natura ciclica della vita come il fiume che scorre senza sforzo o l'albero che cresce senza ansie possiamo apprendere a vivere in perfetta armonia con il flusso naturale del mondo che ci circonda la ricerca dell'equilibrio come abbiamo visto è un viaggio senza fine una danza con il ritmo pulsante dell'essenza vitale questo prezioso insegnamento può essere applicato in ogni aspetto delle nostre vite aiutandoci a navigare attraverso le sfide con grazia e saggezza la meditazione taoista come abbiamo scoperto è un portale verso l'essenza stessa del tao in questo stato di contemplazione profonda raggiungiamo una pancia interiore che ci connette al flusso universale della vita apportando equilibrio e serenità nelle nostre esistenze questa pace interiore diventa il nostro compagno di viaggio costante è un faro che ci guida attraverso le tempeste della vita un'oasi di tranquillità che possiamo attingere in ogni momento questo dono prezioso arricchisce le nostre vite aprendoci alla bellezza e alla meraviglia del mondo che ci circonda in conclusione vi invitiamo a continuare a esplorare questa strada dentro di voi abbracciate l'olismo del taoismo perseguite l'equilibrio nella vostra vita quotidiana e coltivate la pratica della meditazione taoista come un mezzo per raggiungere la pace interiore il cammino potrà essere lungo e tortuoso ma ogni passo vi avvicina alla scoperta della vostra vera essenza se questo video ti ha ispirato e ti ha aperto nuove prospettive sulla via del tao ti invito a mettere un like iscriverti al nostro canale e condividerlo con chiunque desideri esplorare la bellezza dell'olismo dell'equilibrio e della meditazione taoista insieme possiamo diffondere questa saggezza millenaria e aiutare un numero sempre maggiore di persone a trovare la propria strada verso la serenità e la realizzazione a trovare la propria strada verso la sanità e la realizzazione